Uomini e donne, caos al trono classico, Andrea Abbandonato In questi giorni è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e donne. Ciò che rivelano le anticipazioni è assolutamente inaspettato. Il trono di Andrea Zelletta si sta rivelando alquanto turbolento. Il modo di fare del ragazzo, pronto a baciare sempre tutte le sue corteggiatrici a distanza di poco tempo, sta innervosendo un po' tutte. I suoi giochetti, inoltre, pare stiano stancandole presenti in studio. Pertanto, ciò che vedremo nelle prossime puntate sarà davvero scoppiettante. . Nel frattempo, scopriamo insieme una piccola parte di ciò che accadrà. . Uomini e donne, Andrea lasciato dalle sue corteggiatrici. . Secondo le anticipazioni di Uomini e donne, infatti, sembra che Andrea abbia deciso di organizzare un esterna di gruppo insieme alle sue corteggiatrici. . Questo, naturalmente, ha fatto infuriare una parte di loro. . Natalia, ad esempio, una volta compreso il tipo di esterna che avrebbe dovuto affrontare, ha deciso di non presentarsi. . Allappello ha risposto, invece, Giorgia. . I due hanno trascorso bellissimi momenti insieme a coccolarsi in una spa. Alla fine, infatti, ci è scattato pure il bacio. Poco dopo è arrivata Muriel. . La ragazza non trovando Andrea ha subito capito che fosse con Giorgia, per questo motivo ha lasciato lesterna. . Natalia e Andrea litigano in puntata, Muriel lascia il trono classico. . Successivamente è stata la volta di Claudia. . Con lei le cose sono andate alquanto bene al punto che durante lesterna si sono scambiati anche un bacio. . Andrea ha deciso di trascorrere lintera notte con lei, ovviamente dormendo in stanze separate. . . Nel bel mezzo della notte, però, il tronista è andato a cercarla per trascorrere altro tempo con lei. . Una volta andate in onda tutte queste esterne, la linea è tornata allinterno dello studio e, come c'era da aspettarsi, è successo il finimondo. . 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